Stefano Zirettu si occupa di Global Security presso l'American Express, è un uomo di grandissima esperienza nel settore, senza raccontare ciò che hai fatto in passato, ma ciò che conta è che tu adesso sei in un posto dove ti occupi di sicurezza per una grande società multinazionale che opera nel campo finanziario, quindi sono problematiche molto verticalizzate e noi vorremmo che attraverso la tua esperienza ci esponessi quali sono i punti di particolare criticità e quali sono anche i punti condivisi con altri settori e quali le possibili tendenze sulle soluzioni da adottare. Fammi le domande una alla volta. Tanto so già quello che devi dire, lo hai già deciso. Io non voglio fare da cassa di risonanza a ciò che Antonio Pruzzese e l'amico Giuseppe hanno già detto, ma vorrei partire nel mio discorso che poi estenderò anche al lato finanziario, quello che più mi riguarda propriamente nella mia nuova veste, da un anno e mezzo ho lasciato la Polizia di Stato e sono diventato il direttore della sicurezza e delle Cyber Crime Investigation per American Express. Stefano che prima facevo le lodi, i nostri apparati di Polizia nazionali sono straordinari sia nell'arma dei Carabinieri, sia nella Polizia di Stato e sia negli altri corpi e devo dire che il lavoro enorme che questi corpi fanno con persone come te quando eri anche in divisa è straordinario ma di questo vorrei sottolineare che non c'è grande consapevolezza ancora nel Paese. Vorrei che i miei ex colleghi della Polizia dei Carabinieri a Guardia e Finanza si americhizzassero un pochettino nel senso che una giusta carriera dovrebbe finire intorno, non me ne voglia direttore, ai 55-56 anni per poi portare il portato di esperienze che nel settore pubblico mi dovete credere è di enorme valore, forse valore forse inconmensurabile a disposizione anche delle aziende private. La cosa più bella che mi sono sentito dire quando ho annunciato ad Antonio Pruzzese che avrei lasciato la Polizia anche a malincuore devo dire, la cosa più bella che mi sono sentito dire è finalmente un poliziotto che va a fare un lavoro importante per una multinazionale e questo non per un senso di valore di Giubba ma per la profonda strima, stima che il direttore aveva e spero continui ad avere nei miei confronti e perché comunque una persona che aveva conseguito in 12, 13, 15 anni di esperienza lavorativa un minimo di professionalità nell'ambito del crimine informatico e delle attività investigative che sono particolarissime nel combattere il computer crime poteva avere. Quindi questo è un punto di partenza importante. Parliamo del dato. Qualcuno di voi forse ricorderà che qualche giorno fa è stato celebrato il decennale dell'omicidio d'Antona e tra un paio d'anni celebreremo quello di Biaggi. Se noi non avessimo avuto la fortuna di avere una legislazione che consentiva la conservazione dei dati telefonici anche decennale all'epoca, né D'Antona né Biaggi avrebbero avuto giustizia. Questo lo devo dire. Siamo passati dal 1993, momento in cui la Nadia Desdemona Lioce venne arrestata e quindi ne scaturì tutta una serie di indagini che portavano allo smantellamento dell'organizzazione nuclei comunisti combattenti Brigate Rosse, ad un momento in cui io, 2005, su una spiaggia della Sardegna in vacanza appresi da un collega che praticamente come responsabile di un settore operativo della Polizia Postale non aveva più strumenti per poter affrontare le indagini perché una legislazione piuttosto stringente aveva sostanzialmente ridotto la tenuta dei file di log e quindi dei dati di investigazione fondamentali per questo tipo di indagini, per indagini tecnologiche, informatele, chiamatele come volete, aveva cancellato sostanzialmente ogni possibilità di indagini. Per passare successivamente ad un decreto pisano che ha risollevato un pochettino le sorti investigative e quando io parlo di sorti investigative parlo della tutela di tutti i cittadini, noi compresi qui dentro e tutti quelli che stanno in giro per l'Italia. Non è che esiste una tutela minore e una tutela maggiore a secondo dei reati che andiamo a perseguire. Questi dati erano estremamente importanti per l'attività investigativa, fortunatamente abbiamo avuto un revenge, siamo riusciti dal punto di vista legislativo ad ottenere la possibilità di poter riutilizzare questi dati ma vi assicuro lo sgomento è stato molto forte in quel momento. Devo dire che meno forte è stato lo sgomento delle compagnie di telecomunicazione che a quel punto hanno brasato tutti quanti i dischi e i dati che avevano e hanno recuperato spazi e speso probabilmente meno soldi. Perdonatemi ma oggi un po' fuori dalle istituzioni queste cose mi posso anche permettere di dirle. Che cosa è successo successivamente che si è arrivati alla direttiva Frattini e si è arrivati anche ad ottenere, secondo il segreto legislativo sulla privacy, non mi ricordo mai il nome il professor Pezzetti, il numero il professor Pezzetti non me ne voglio, si è arrivati ad ottenere un duplice trattamento. Non si capisce per quale motivo il dato telefonico che non è un dato contenutistico debba essere conservato per due anni mentre il dato del collegamento della connessione internet invece ci abbia una tutela minore, quella di un anno. Qualcuno di voi ha qualche idea in merito? Ho rappresentato l'Italia, il ministero dell'interno, presso la commissione europea in un gruppo di lavoro che si occupava del data retention e della applicazione della direttiva Frattini. Ho ricevuto molte pressioni da parte del capogruppo di questo gruppo perché io rappresentassi e dessi una picture dello stato dell'arte in Italia rispetto all'utilizzo dei dati di traffico telefonico o di internet e la nostra capacità di utilizzare dei fini investigativi. Quando è arrivato il giorno in cui ho dovuto presentare questo piccolo speech mi sono reso conto che eravamo in quattro, tra tutti i membri dell'Unione Europea, tutti i paesi dell'Unione Europea eravamo solamente in quattro ad aver qualcosa da dire ed ad aver recepito in maniera integrale quella che era la direttiva Frattini. Il collega svedese non sapeva neanche di che cosa si stesse parlando, il collega danese, sempre della polizia voglio dire, allo stesso modo, quindi ci si è resi conto che tutto sommato andiamo in ordine sparso. rendiamoci conto che un'indagine su internet, perdonatemi è brutto dire un'indagine su internet, una cyber investigation è, come dire, per avviare una cyber investigation è necessario avere i dati, ma una cyber investigation 99 volte su 100, 99,9 volte su 100 ci porta attraverso i confini nazionali per farci passare in giro per i cinque continenti e farci eventualmente ritornare nel nostro paese. E' a questo punto che scatta il tema della collaborazione. Il tema della collaborazione deve essere un tema prima sentito dalle persone, da chi è chiamato a fare sicurezza a tutti i livelli, imprese, organizzazioni di polizia giudiziaria, magistratura, garante della privacy, ma direttori della sicurezza delle varie aziende, coloro che come le multinazionali americane si sentono in qualche modo chiamati fuori perché si gode di una sorta di extraterritorialità, quello che vale per gli Stati Uniti non vale per il resto del mondo. Questo è un atteggiamento che onestamente non è bello per chi deve fare le indagini informatiche da questa parte dell'oceano atlantico, ma a questo punto però mi devi permettere, devo spezzare una lancia a favore di American Express. Per due ordini di motivi, ed è la verità. Uno per il commitment che questa multinazionale americana ha nell'affrontare i grandi temi della criminalità e nell'essersi dotata di polizi pregnanti, efficaci, che consentono di perseguire, perdonatemi, il crimine quando esso è transnazionale. Parliamo del terrorismo, un tema molto importante, e al terrorismo è connesso il cyberterrorismo. parliamo di riciclaggio di denaro. Il riciclaggio di denaro è un altro dei temi estremamente importanti che conducono al terrorismo e al cyberterrorismo e conducono alla criminalità organizzata. È il serbatoio attraverso il quale le organizzazioni criminali si riempono, o meglio, utilizzano per compiere altri reati. E oggi non ci rendiamo conto, ancora non siamo consapevoli del fatto che nel giro di cinque minuti io riesco a spostare in quattro banche diverse capitali importanti, spesso senza lasciarne tracce. Allora il tema della cooperazione e della collaborazione è estremamente importante, perché uno Stefano Ziredu che si rende conto di una cosa di questo genere non aspetta che sia la polizia di Stato, delle comunicazioni o la magistratura a chiedere un determinato dato. Deve essere proattivo, deve prendere quel dato e farlo proprio secondo quelle che sono le polizi della propria azienda. Nel mio caso io sono fortunato, ho un'azienda che mi supporta da questo punto di vista, un'organizzazione di sicurezza che ha una caratteristica, un'impronta mondiale basata su tutti i cinque continenti e a quel punto si presenta dalla polizia giudiziale e dice abbiamo un problema, ma il problema lo deve condividere. Non deve aspettare che sia qualcun altro a fare il pierino, lo deve condividere eventualmente anche con i propri colleghi di business. Cosa che avviene onestamente un po' più spesso rispetto a quanto avvenisse in passato, devo dire. Io credo di essere stato abbastanza dirompente. Grazie.